Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere nella maniera pratica come installare e iniziare a utilizzare Elementor. Nel video precedente che trovi suggerito qua sopra abbiamo visto come installare e come è possibile in pochi minuti realizzare già un sito web con il tema Astra in versione gratuita, semplicemente scaricando e importando dei template per il nostro sito. Detto ciò, nel video di oggi andiamo invece a andare a incrementare le funzionalità del tema Astra con anche l'ausilio di Elementor. Quindi direi di non perdere a questo punto altro tempo e andare a vedere, a installare quindi Elementor. Procediamo quindi appunto con l'installazione di Elementor, ci prepariamo il nostro sito logati da backend, come abbiamo già detto nel video precedente relativo ad Astra, anche qui guarderemo Elementor in versione free. Quindi andiamo a scaricare direttamente dalla directory ufficiale di WordPress, ovvero su plugin aggiungi nuovo oppure possiamo anche andare direttamente su Google, digitare Elementor e andare su quella che è la directory ufficiale e scaricare lo zip direttamente. Eccolo qui, quindi possiamo scegliere entrambe le strade e portano a questo, allo scaricamento di questo file zip. A questo punto scarichiamo appunto dal backend, quindi Elementor, andiamo a scaricarlo, intanto lo cerchiamo, poi lo scarichiamo, e lo installiamo, attiviamolo per la prima volta, vediamo cosa succede all'interno del sito. Ok, il plugin Elementor è attivo. A questo punto abbiamo intanto un po' di impostazione, andiamo a vedere, possiamo scegliere quali pagine utilizzare per Elementor, quindi abbiamo articoli, pagine, landing page, disattivo ai colori preferiti, predefiniti, selezionando questa casalla disabiliteremo i colori globali di Elementor, quindi Elementor utilizzerà i colori predefiniti del tema. Poi stesso discorso per i font e condivisione per dei dati di utilizzo, quindi qui abbiamo la scelta se condividere o meno i nostri dati. Poi abbiamo impostazioni di stile, quindi abbiamo nel panello hamburger menu impostazioni del sito di Elementor, ci dice dove abbiamo le impostazioni di stile, poi abbiamo integrazione con le Google Maps, quindi possiamo inserire la nostra Google Maps, abbiamo la possibilità di scegliere come utilizzare il CSS, se con un file esterno o un file incorporato internamente, possiamo scegliere appunto, poi abbiamo anche il metodo di caricamento dello switch, per evitare i possibili conflitti con il server, possiamo appunto disabilitarlo o abilitarlo, abbiamo il caricamento di file, abbiamo il caricamento dei caratteri di Google, e caricamento di font Epson, come nel caso ci servisse. Poi qui abbiamo tutta un'altra tab, diciamo, per funzionalità nuove e sperimentali, non ancora rilasciate ufficialmente, quindi possiamo scegliere se utilizzarle oppure no, e c'è scritto anche lo stato attuale, il fatto che sia appunto in stato beta. Quindi possiamo selezionarle e attivarle o disattivarle. Andiamo alla questione dei ruoli, andiamo a vedere, a visitare un attimo, questi sono gli utenti che possono utilizzare Elementor, abbiamo però la necessità eventualmente di passare al Pro, quindi di fatto nessun utente, se non l'amministratore, può utilizzare Elementor. Se vogliamo, possiamo escludere dei ruoli. Poi qui abbiamo degli altri strumenti, quindi abbiamo sempre strumenti per rigenerare CSS e dati, per sincronizzare la libreria, abbiamo la modalità provvisoria che ci consente di risolvere eventuali problemi caricando solo l'editor senza altri temi o plugin, abbiamo la barra di debug che ci consente di visualizzare nella nostra barra di amministrazione una barra di debug, poi possiamo sostituire, aggiornare le URL del sito, quindi anche da qua, quindi sia il nuovo vecchio URL che il nuovo URL, possiamo però, stiamo andando a modificare una parte del sito molto molto particolare, quindi è consigliabile innanzitutto fare un backup del database e comunque questa impostazione la possiamo utilizzare anche dalle impostazioni di WordPress di default. Poi abbiamo il controllo della versione, possiamo andare ad una versione precedente qualora lo desideriamo, possiamo diventare beta tester, poi abbiamo la modalità anche di manutenzione, quindi possiamo accedere alla pagina, possiamo attivare la modalità di manutenzione, possiamo scegliere chi può accedere o chi non può accedere a questa quando la manutenzione è attiva, possiamo anche selezionare un template o crearne uno nuovo, per esempio, dobbiamo impostare un template per quanto riguarda la pagina di manutenzione. Poi possiamo da qui importare ed esportare dei kit, quindi intero sito o alcuni elementi del sito, poi qui abbiamo un po' di informazioni di sistema, quindi per Zoom abbiamo informazioni di tutto l'ambiente, come è strutturato, quindi versioni PHP, versioni degli altri plugin e quant'altro. Poi come iniziare? E qua abbiamo direi un bel wizard, nel senso che abbiamo una playlist di video molto interessante e iniziamo a creare qui la prima pagina, andiamo poi a vedere tra poco. Qui abbiamo la pagina relativa al supporto, abbiamo poi le submission, possiamo creare delle submission e inviarle, poi abbiamo font eventualmente personalizzati e icone personalizzate, direi che però dobbiamo utilizzare il pro. Arriviamo quindi all'iniziale, andiamo per esempio a creare la nostra prima pagina e vediamo come funziona l'editor di Elementor. e come vedete per creare una nuova pagina abbiamo qua header e footer del tema che abbiamo utilizzato in questo caso e poi abbiamo la possibilità di utilizzare il famoso drag and drop di cui avevamo parlato. Quindi, non so, possiamo inserire un'intestazione che possiamo dire, possiamo impostare, per esempio possiamo scrivere pagina di prova, possiamo dare un allineamento, per esempio centrale, possiamo anche scegliere, per esempio, di spostare questa sezione più in alto, più in basso, a seconda di, e poi, per esempio, possiamo andare ad aggiungere, ah, qua possiamo dividere, se vogliamo dividere una struttura in colonna, invece possiamo aggiungere degli elementi qua sopra o qua sotto anche, poi torniamo su quello che è l'editor, torniamo su, ecco qua, sui widget, per esempio abbiamo inserito pagina di prova, possiamo inserire, magari, un, vediamo, un separatore, se lo troviamo, se no lo cerchiamo, non abbiamo in questo caso dei separatori, possiamo mettere semplicemente un divisore, eccolo qui, andiamo a impostare un divisore, perfetto, e sotto possiamo ancora mettere, per esempio, una sezione interna, quindi magari mettiamo un, qua, un testo, per esempio, aggiungiamo del testo, ecco, possiamo aggiungere, un editor di testo, con un lorem ipsum, e qua, per esempio, possiamo, che so io, caricare un'immagine, selezioniamo l'immagine, vediamo se abbiamo delle, ecco qua, abbiamo delle immagini che abbiamo caricato dal template, a questo punto, per esempio, riusciamo ad andare a pubblicare, ora, è proprio una pagina fatta velocissima, e abbiamo la nostra intestazione, il nostro testo, e la nostra immagine che abbiamo deciso di pubblicare, questo è il famoso drag and drop, di cui abbiamo già parlato abbondantemente, in altri video che trovi all'interno del mio canale, e qua, poi, possiamo sbizzarrirci, sulla costruzione, appunto, delle pagine, questo è il footer del sito che abbiamo importato, naturalmente, e quindi, con questo, con questo primo video iniziale, abbiamo visto come poter andare a creare una pagina, altra cosa interessante, di cui ho parlato in altri video, è il navigatore, come potete vedere, noi abbiamo creato tutte delle varie sezioni, colonne, eccetera, che possono essere tra di loro spostate, possono essere, per esempio, nascoste, possono essere duplicate, quindi abbiamo duplica, e eliminate, insomma, abbiamo varie tipologie di funzioni da usare nel navigatore, molto molto interessante. Per quanto riguarda la prima parte, quindi il primo utilizzo di Elementor, per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamelo scritto qua sotto nei commenti, così che posso darti una mano, magari per quanto possibile, o se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, Elementor, temi, plugin, WooCommerce, e non hai trovato all'interno del mio canale questo approfondimento, scrivimelo anche questo qua sotto, così che magari posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altro nuovo suggerimento per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto, e seguimi nei prossimi video. Ciao!